ufficiale della regione dove ha detto che il comune è rimasto inerte e che lui insieme a Gerghetta hanno dovuto provvedere. Questo io lo ringrazio perché dimostra da fonte sicura che il comune non c'entra niente con quello scempio della Tendopoli, chiaro? Quindi Panotin grazie di solito, riesci sempre a essere illuminante anche quando non vorresti esserlo. Altra osservazione, la Tendopoli è stata costruita a seguito, si dice, di questi poveri ragazzi, che ne fanno veramente pena, i quali erano attendati sulla riva dell'Isonzo. Secondo le forze dell'ordine l'inizio di questa cosiddetta Tendopoli dell'Isonzo nasce perché il Nazareno dove sono ospitati una parte di questi signori la mattina alle 8 li manda fuori e li riaccoglie alle 8 di sera. Da qualche parte dovevano stare e si erano attrezzati in questa Tendopoli. Da questa hanno cominciato a richiamare.